E' un ramo del progetto più generale Linea Amica, è un contact center multicanale che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha voluto attivare all'inizio del 2009. Qualcuno di voi ha utilizzato Linea Amica? Nessuno di voi ha grane con la pubblica amministrazione? E' un contact center che cerca di risolvere i problemi che hanno i cittadini, che i normali canali di accesso alle informazioni, di contatto fra la pubblica amministrazione e il cittadino non sono riusciti a risolvere. Se avete qualche problema con la pubblica amministrazione, qualunque tipo di pubblica amministrazione, vi invito a provarlo, 803 001 dal telefono fisso, 0682 8881 dal cellulare dalle 9 di mattina alle 7 di lunedì alle 7 di sera di venerdì. Un progetto piuttosto complesso che è il Dipartimento della Funzione Pubblica affidato al Formez che come sua missione, voi sapete, si occupa di formazione per la pubblica amministrazione. In virtù di questo fatto ha acquisito un enorme, un know-how sui problemi, il funzionamento, le procedure della pubblica amministrazione e grazie a questo nell'arco di due mesi siamo riusciti ad attivare questo servizio. Doveva durare un anno come progetto pilota e siamo al terzo anno. Una delle attività che era prevista dal progetto Linea Amica era quella di diffondere il modello di contact center che in qualche modo Linea Amica stava attuando. È quello di una pubblica amministrazione che va incontro al cittadino, mi state guardando male? Non ci credete a quello che sto dicendo? Fate, avete una grana, provate a farlo. Ci sono dei bravi colleghi che conoscono bene la pubblica amministrazione, sono molto pazienti nei confronti della pubblica amministrazione, non dei cittadini che hanno un problema nei confronti della pubblica amministrazione. L'idea era quella di diffondere, sviluppare una rete di sportelli di contatto con il cittadino che utilizzassero gli stessi approcci, le stesse modalità e potessero avvalersi anche della enorme mole di problemi risolti che intanto il contact center Linea Amica aveva, ma soprattutto i robusti, efficaci contact center delle amministrazioni che avevano iniziato a lavorare prima dispongono e possono mettere a disposizione appunto all'interno di un network. Non so se è chiaro, quindi mettiamo, diffondiamo un modello di contact center multicanale. Ok, su Linea Amica vi ho detto e quindi non andiamo oltre, no? Sì, qualche cosa sul modello. Il modello che abbiamo cercato di mettere in campo, proprio per in qualche modo modificare l'immagine anche che ha, l'immagine della sostanza della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione accogliente, che usa un linguaggio poco burocratico, molto spesso i cittadini hanno dei problemi con la pubblica amministrazione e hanno anche difficoltà in qualche modo a segnalare che problema hanno, proprio perché è un problema magari di natura formale, quindi si aiuta il cittadino a formulare anche la domanda, ascolto, semplificazione, attenzione dei tempi, noi cerchiamo di rispondere ovviamente in tempo reale o entro le 24-48 ore. E mai lasciare uno da solo, cioè comunque dare una traccia, questa è la strada che dovresti seguire. Questo è da un punto di vista, come dire, concettuale uno degli elementi importanti del progetto front office, proprio quello di diffusione e cioè di creazione, di lavoro per un sistema, per una pubblica amministrazione che sia un sistema, non un insieme di compartimenti stagni. Stamattina anche si è parlato, si è discusso di come la formazione, l'e-learning possa interpretare le esigenze delle persone a cui è rivolto, soprattutto quando parliamo di corsi che vengono industrializzati, ripetuti, di learning object che vengono fatti senza sapere chi sarà poi il reale utilizzatore. Noi abbiamo fatto una impegnativa analisi dei fabbisogni, naturalmente un'analisi dei fabbisogni la fa e se c'è una forte collaborazione di chi costituisce in qualche modo il referente poi della formazione. Quindi una ricognizione di tutte le best practices e delle bad practices di contact center, leggendo i documenti, classificandoli, parlando con i dirigenti e facendo anche un'indagine di tipo più capillare. Questo ci ha consentito di poter strutturare per quanto è possibile un percorso di formazione, ho fatto una sciocchezza, un percorso di formazione, mi sto perdendo in questa grafica che non conosco, le tecnologie costituiscono sempre un problema. Allora questa è l'architettura del percorso di formazione, non credo niente di particolarmente originale per voi che vi occupate di e-learning, un corso blended che iniziava, quindi l'attività in presenza venivano precedute da una impegnativa fase di team building fatta sulla piattaforma in cui le persone, 30-40 per edizione, venivano ovviamente tutte persone che si occupano di servizi di contatto col cittadino, quindi lavorano in un urpo, lavorano in un centro di prenotazione unica, lavorano in uno sportello per le imprese, si dichiaravano chi sono, cosa faccio, quali sono le difficoltà a cui vado incontro, quindi condividevano con i colleghi i principali problemi e anche gli escamottaggi, gli accorgimenti che potevano risolvere. Questo forniva, come dire, garantiva un minimo di team building prima delle attività in presenza che naturalmente erano dedicate ai contenuti e perseguivano gli obiettivi formativi per i quali era necessario un impegno diretto delle persone, quindi le simulazioni, le attività laboratoriali e così via. Poi le aule virtuali per le comunicazioni che hanno invece più di natura trasmissiva, l'apprendimento individuale che consente, come voi sapete, di rendere compatibile l'esperienza formativa con agende di lavoro piuttosto complesse, soprattutto per chi lavora in uno sportello, quindi non può dedicare troppo tempo alla formazione perché sguarnisce un servizio estremamente utile. Sotto questo profilo l'apprendimento autonomo garantisce, come dire, una opportunità notevole. Esercitazioni in presenza, costruzione di materiali utili, quindi esercitazioni non semplicemente d'appoggio all'aula, ma momenti veri e propri di laboratorio per costruire strumenti che le persone potevano immediatamente utilizzare. Allora valutare la formazione significa anche quello che abbiamo fatto, lo stai utilizzando? Il percorso di formazione si sviluppa in un arco temporale di due mesi. Due mesi, 60 ore, in realtà poi le ore erano almeno 80, ma 60 ore classificate, in presenza erano 24 le ore suddivise in 4 giornate, abbastanza distanziate tra loro 6 dialogo virtuale, 20 di esercitazione online e 10 di apprendimento autonomo. Questi dati che vi ho dato sono i dati, diciamo, del corso a regime. Abbiamo fatto 26 edizioni dalla provincia di Trento fino alla provincia di Siracusa, 26 edizioni di questo percorso di formazione per gli operatori di Sportello ed è stata una messa a punto che è andata avanti con il tempo. Io personalmente mi sono occupato del sistema di monitoraggio e valutazione, quindi non ho preso parte alla progettazione né alla realizzazione, proprio perché essendo responsabile del sistema di monitoraggio e valutazione dovevo avere l'autonomia, come dire, per poter dire le cose stanno andando male, correggiamole in questa direzione. In particolare in Emilia Romagna sono state formate, col progetto front office chiave in mano, 88 persone, la maggior parte delle quali degli sportelli studenti dell'Università di Bologna. Non so se qualcuno di voi ha rilevato dei miglioramenti, se qualcuno di voi lavora all'università o ha frequentato gli sportelli dell'università, lettere, filosofia, tutti i diversi corsi di laurea e gli operatori di sportello hanno normalmente frequentato il corso front office chiave in mano. E poi anche la Camera di Commercio, il Comune di Salzo Maggiore, di Parma, di Rubiera, di Finale Emilia, di Pavullo e poi un numero di persone cospicuo di un'associazione che si chiama Rete Terza Età di Reggio Emilia, che evidentemente svolgono anche loro una funzione di sportello. Nel mese di ottobre inizierà la ventisettesima edizione con le attività di in presenza che si erano fatte a Bologna, particolarmente indirizzate per le amministrazioni pubbliche dell'Emilia Romagna. Il corso è gratuito quindi non sto vendendo aspirapolveri. Perché ha avuto successo questo corso? Possiamo dire per una serie di elementi quantitativi rilevati, scarsissimo abbandono, presenza in tutti i momenti, contributi durante le attività. È possibile che sia un corso con in qualche modo autoselezione ai partecipanti dovendosi utilizzare anche tecnologie, è possibile che alcuni frequentatori delle Aulef di formazione per l'evasione dal lavoro siano stati un po' tenuti lontani, chi voleva partecipare doveva impegnarsi e i limiti, i problemi maggiori li abbiamo avuti naturalmente nella disponibilità di una postazione di lavoro dotata di cuffie e di microfono e la possibilità delle persone concretamente di poter utilizzare nel posto di lavoro queste attrezzature. Questo è stato un limite, le persone certe volte sono dovute comprare le cuffie di tasca propria, il microfono, nulla di trascendentale, di una webcam normale, voglio dire le persone quando si formano e ci credono e vogliono migliorare ci mettono dell'oro e questo ha consentito appunto a quasi duemila persone di formarsi e poi limiti tecnologici, le persone che sono quasi il 99% delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione in campo informatico sono degli autodidatti e quindi la presenza del technology steward sempre disponibile a dare qualunque tipo di suggerimento, qualunque tipo di supporto, le persone hanno acquisito una grande confidenza con lo strumento e direi che questo è l'outcome maggiore, noi abbiamo creato una generazione di operatori di web 2.0, persone che non sapevano neanche cosa fosse Wikipedia, hanno costruito con un approccio Wikipedia il loro regolamento, gli schemi per poter fare, per poter standardizzare le email per il loro contact center. ho finito dicendo che l'accordo, il patto formativo era un vero e proprio giuramento, cioè chi lavorava questo progetto ci metteva molto, compresi i consulenti esterni, noi abbiamo fatto un po' come ha fatto, ho sentito, le scuole di amministrazione pubblica di Catalunia, con la crisi economica ha chiamato tutti i docenti e ha detto noi non vi possiamo più pagare come prima, le tariffe sono ridotte del 50%, se voi ci date una mano non riduciamo neanche di un giorno l'attività formativa, ci mettiamo qualche cosa a noi, ci mettete qualche cosa a voi, più o meno questa cosa, questo accordo l'abbiamo preso anche noi, con i nostri abituali docenti, molto abbiamo internalizzato, però volevamo che anche i partecipanti ci mettessero dell'ora, allora il patto formativo era un vero e proprio documento scritto, che le persone dovevano firmare, veniva a letto con una certa ritualità proprio per segnalare l'importanza e questi sono i passaggi del patto formativo che conoscete, insomma abbastanza canonico in cui le persone si impegnano a dare una mano, a seguire il proprio apprendimento e dare una mano per l'apprendimento dei colleghi e poi anche uno sbarramento per poter averlo attestato che fa sempre piacere. Il progetto ha funzionato, è stato anche premiato come primo premio nella sezione reti formative del premio Basile dell'AIF di quest'anno, quindi è stato valutato anche dall'esterno, positivamente. Posso dire solo questo, abbiamo fatto dei corsi regionali, quindi i modi di funzionare di una pubblica amministrazione, voglio uscire dallo stereotipo però spero di essere compreso, come dire, metodi, procedure, atteggiamenti di una pubblica amministrazione non sono simili in tutta Italia, lo sappiamo, quindi abbiamo costruito gruppi di apprendimento che avessero elementi in comune non soltanto in termini di localizzazione ma anche di approcci, di rispetto dei tempi, non so, e di collaborazione reciproca. Quello che non ha funzionato non riguarda l'aspetto dell'e-learning, quindi non mi interessa e allora la chiudiamo qua. Allora ci sono dei commenti, delle domande per il relatore? Prego, siamo già due, prego lei. Allora, sono Riana Koch di Gruppo Pragma, volevo fare una domanda al dottor Agnese del Formez, effettivamente deve essere stata un'esperienza veramente di successo, mi chiedevo questi gruppi in formazione che hanno iniziato questo percorso, poi hanno continuato la formazione continua e se si come, perché penso che comunque sia, cioè la vera difficoltà sia creare il gruppo, ovviamente poi vale la pena anche mantenerlo e ultima domanda corollario della precedente è questa, visto che il fabbisogno era concentrato sugli aspetti operativi, su contenuti operativi, se non sbaglio, operativi, dal punto di vista invece del contenuto, cioè perché, che cosa rispondo al pensionato arrabbiato, cioè dell'informazione, questo come è stato gestito? Qualcuno di voi doveva fare la domanda che ha fatto la collega? Rispondo a questa perché sono tre domande in effetti, sulla piattaforma innovatori PA, i gruppi che in formazione hanno continuato, sinceramente non ho seguito la parte di, diciamo di gruppo professionale, so che stanno continuando a lavorare, quindi sulla piattaforma innovatori PA, una piattaforma piuttosto articolata, tutti, tutti quasi duemila iscritti al corso frontofis che non si sono iscritti e stanno continuando a collaborare sui diversi temi di interesse, ci sono diversi gruppi. Come abbiamo potuto lavorare sulla dimensione relazionale usando l'e-learning? Abbiamo usato molto, io vi ho lasciato un paper dove è tutto descritto puntualmente, dall'analisi di fare bisogno al sistema di valutazione, abbiamo usato molto il cinema, allora abbiamo fatto delle, abbiamo costruito un catalogo di situazioni tipo che si verificano nel front office, dalla persona che vuole essere consolata, al tipo incazzato che ha visticciato, tutte le diverse situazioni, sono una trentina di situazioni, le abbiamo condensate in 15 corti che venivano utilizzati nella prima giornata in presenza come un ricchissimo catalogo di situazioni da affrontare e da risolvere, c'erano casi aperti che venivano poi risolti come vi sareste comportati. Il dramma che noi abbiamo avuto è che lavoravamo con persone che sono di un comune, persone che lavorano in una ASL, persone che lavorano all'INPDAP, allora abbiamo cercato non solo di tipizzare geograficamente i corsi, ma anche di venire incontro esigenzialmente un insieme a persone che svolgevano lo stesso lavoro o lavoravano in pubbliche amministrazioni simili. L'altra domanda, c'era lei, c'era lei, c'era lei prima, lei lui, però lei è un cavaliere, un gentleman e io, rinuncia. La mia era solo una conferma, siccome sono all'università di Bologna ho notato effettivamente interagendo con certi uffici, una consapevolezza e una reattività molto maggiore. Era solo una conferma. Sono emozionato. Per un formatore. Allora, grazie e direi che questo intervento ha avuto un riscontro importante.